La comunità di Cortone della Val di Chiana si prepara a celebrare Santa Margherita, patrona della città e della diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro. Dopo un percorso di preparazione, iniziato il 29 aprile scorso, sabato 4 maggio verrà aperta alle 17.45 l'urna della Santa Penitente. A seguire l'arcivescovo di Lucca, Italo Castellani, originario proprio di Cortona, celebrerà una messa. Il giorno della festa, domenica 5 maggio, centinaia di fedeli raggiungeranno il santuario per venerare le reliquie della Santa. La prima messa della giornata è prevista alle 7 del mattino e poi alle 11 il vescovo emerito di Fiesole, Luciano Giovannetti, presiderà la messa solenne animata dalla corale Zefferini. Alle 16 sarà la volta di Fra Michael Perry, vicario generale dell'Ordine dei Frati Minori, animata dalla corale Santa Cecilia. Al termine di entrambe le celebrazioni ci sarà una benedizione speciale per tutti coloro che si chiamano Margherita. Nata a Laviano nei pressi di Perugia nel 1247, di umili origini, visse già dall'età di 17 anni come concubina con un notabile, il Ragnaro del Pecora, dal quale ebbe anche un figlio. A seguito dell'assassino dell'uomo durante una battuta di caccia, Margherita fu allontanata sia dalla famiglia di lui che dalla sua. Fu allora che si avvicinò ai frati di Cortona e dopo quattro anni divenne terziaria francescana, dedicandosi esclusivamente alla preghiera e alle opere di carità. Donna mistica, ma anche di azione, fu attenta alla vita pubblica e nelle contese tra Guelfi e Ghibellini. Diede vita a una congregazione di terziari e dette le poverelle, fondò nel 1278 un ospedale presso la chiesa di San Basilio e formò la confraternita di Santa Maria della Misericordia, per le dame che intendevano assistere i poveri e i malati. Margherita fu canonizzata da Benedetto XIII nel 1728 con l'appellativo di Nova Magdalena.